Temi molto simili, il degrado è estremamente evidente, penso che sia giunta l'ora di cambiare, quindi il tema di questa campagna elettorale è il cambiamento, cambiare, sentiamo che i padomani hanno voglia di cambiare, noi ci proponiamo come coalizione di centro-destra unita, perché ne siamo uniti, e questo non è un cartello solamente elettorale, è una coalizione che ha anche lo stesso programma, questo è importantissimo perché in questi anni abbiamo visto invece un cartello elettorale governare questa città che va dall'estrema sinistra a qualcuno di centro, con programmi completamente diversi che hanno bloccato completamente questa meravigliosa città. Il tema fondamentale sarà quello della sicurezza, io penso che il centro-destra ha la ricetta giusta, noi del centro-destra possiamo mettere in atto quella formula e quelle formule, quelle ordinanze, quel potenziamento dei servizi dalla videosorveglianza all'illuminazione dei quartieri, alla Polizia Municipale che deve tornare nelle piazze a camminare in mezzo alla gente, al vigile di quartiere, alle ordinanze contro l'accattonaggio, adesso io vi dico alcune delle proposte che noi faremo tutti quanti insieme.